L'Amen Scuola Basket Arezzo prova a sfruttare il momento positivo delle tre vittorie consecutive sul parquet della palestra Balducci contro il Valdisieve. La gara è in programma sabato 25 gennaio alle 18.30. Una sfida molto importante ai fini della classifica in considerazione dei quattro punti di distacco dei fiorentini rispetto alla SBA. Nel fortino casalingo Valdisieve ha già battuto Virtus Siena, Legnaia, Firenze e Prato. La squadra di coach Pescioli infatti fa della determinazione e della compattezza le armi principali. Tre i giocatori biancoverdi che fino ad oggi hanno viaggiato oltre la doppia cifra di realizzazione. La bandiera Occhini con quasi 16 punti a partita, Rossi con più di 14 e Cianchi con più di 11. L'Amen si avvicina a questo appuntamento con qualche piccolo acciacco. La SBA sarà pronta per tentare di replicare i due successi a Maranto già maturati in questa stagione contro Valdisieve, prima in Coppa Toscana e poi nell'esordio casalingo in campionato.